1500 visitatori paganti in circa 40 giorni per la mostra dedicata al sipario restaurato, oltre 7600 gli ingressi a pagamento nel 2019 per il Teatro della Sena, a cui vanno aggiunti i partecipanti agli spettacoli teatrali e alle varie rappresentazioni culturali. Feltre e il suo teatro si confermano un'attrazione culturale di forte richiamo anche per chi arriva da fuori città. Sono numeri sicuramente significativi per una struttura che ha un valore aggiunto di quasi 13.000 utenze all'anno tra una cosa e l'altra. Quindi adesso che partirà il cantiere e con il teatro a 300 posti valorizzato anche nella sua storicità di materiali, sicuramente la città acquisirà un grande cuore culturale che avrà anche un suo indotto economico significativo. Sabato e la domenica 25-26 gennaio ci saranno delle visite guidate e animate molto particolari perché realizzate da una compagnia di teatro, il Teatro Ortaet, che realizza visite guidate in costume sui più importanti edifici storico-culturali del centro Italia, del centro nord Italia. E sabato alla Galleria Rizzarda si inaugurerà la mostra dedicata a Dianora Marandino, trame di colore, un viaggio culturale nel secolo scorso raccontato con i colori e i disegni di una delle principali interpreti dello stile italiano, grazie alla collezione donata alla città da Antonia Guarnieri. Una mostra ad abiti di una stilista, di un artigiana del tessuto, che ha vestito personaggi come Liz Taylor, Anna Magnani, e che è stata una delle principali stiliste, innovatrici anche sul piano dei tessuti della seconda metà del Novecento.